E' fallito dopo pochi minuti ad Hilversum, a 32 km da Amsterdam, l'assedio di un uomo che ha tenuto in scacco per qualche minuto nella sede della televisione nazionale olandese, NOS. Nelle immagini che potete vedere che ci sono giunte nella notte, l'uomo per 4 minuti è rimasto nello studio chiedendo durante il telegiornale della sera di leggere un messaggio. Non si sa se è di tipo terroristico. Poi sono intervenute le forze dell'ordine che lo hanno disarmato e poi portato via. Si ignorano ancora le cause di questo gesto.